Ah no, non l'hai mai acceso? Non l'ho mai acceso! E adesso è acceso! Mannaggia, ragazzi, hanno giocato così. Bea? Dov'è Jack? E qua hanno fatto subito amicizia qua fuori. La ragazza è molto socievole, lui, a parte il primo momento che si è spaventato dell'irruenza di questa signorina e poi hanno iniziato anche a giocare. Jack? Geccolone? Lei ha certi scatti. Si è rotto le scatole già. Andiamo Jack? Lei giocherebbe tutto il giorno, tutti i giorni. E invece Jack è attratto dagli odori. Tatini, sorriso per la stampa. Bea? E non è che c'è? No, non c'è lì. Ha detto la disenteria da un'altra parte. Bello aver filmato! Va bene, dai. Passo e chiudo. Speriamo poi che facciano così anche nel recinto. Che stiano... che nasca una nuova amicizia, insomma. Passo e chiudo. Ciao a tutti!